Le questioni sarde è un confronto serrato tra due esponenti politici di area sovranista. L'avvocato Efisio Orbau, sindaco di Orlollai e presidente della base, e il filologo Paolo Manichedda, ex assessore regionale e leader del Partito dei Sardi. L'Istituto Bellieni ha organizzato nella Sala Angioi del Palazzo della Provincia in Piazza d'Italia un dibattito dedicato alla Sardegna di oggi. L'identità urbanistica, la prevenzione del crimine, l'insegnamento del sardo a scuola è, tema molto sentito, l'accoglienza e l'integrazione dei migranti. Io credo che, come è stato detto da chi ha fatto le domande, che il tutto debba essere legato alla questione del lavoro. Si viene in Sardegna se si vuole lavorare e se ci sono le condizioni per poter lavorare. Altrimenti stiamo creando dei problemi alla nostra società inutilmente. Diritti e poteri dei sardi, questa è la nuova frontiera del dibattito politico regionale. Chi dice va benissimo lo statuto che abbiamo, andiamo avanti, poi non riesce a spiegare cosa potremmo fare, per esempio, sulle servitù militari o cosa potremmo fare per avere garantite le entrate senza doverle chiedere. E chi dice ci serve un aumento di poteri per aumentare la nostra ricchezza, per aumentare i nostri diritti, per aumentare anche la nostra felicità. Questo è il tema politico che oggi si sta imponendo da qui alle prossime elezioni regionali che vedrà contrapposti gli schieramenti su una frontiera alla quale non sono abituati. Il laboratorio politico-culturale del Bellieni proseguirà il suo lavoro di dialogo e confronto. Risposte precise, esaudienti, ma anche orientate verso la costruzione di un progetto e di progetti politici sia per la città di Sassari ma per il territorio, per tutta la Sardegna.